Ciao a tutti, oggi vi mostro come saltare la corda in maniera corretta. Vediamo prima la cosa più importante, la lunghezza della corda. Unisco i piedi, tiro le maniglie che mi devono arrivare più o meno ai fianchi. In questo caso è leggermente lunga, quindi faccio un nodo per recuperare qualche centimetro. Quando salti la corda devi sfruttare soprattutto i polpacci, non piegare troppo le ginocchia, stare rilassato con le spalle e soprattutto non smettere di respirare, mai andare in apnea. La corda dietro e faccio un salto e mi fermo. Riparto, un salto e mi fermo. Prego a fare due salti adesso. Uno, due e mi fermo. Una volta che hai preso confidenza e soprattutto ritmo, provi a saltare senza fermarti. Mi raccomando, coordinazione, ritmo e soprattutto respira. Inserisci nei tuoi workout e fammi sapere come va.